50 ettari di vegetazione andati in fumo a causa dei fuochi d'artificio utilizzati per il ricevimento in una villa. È successo il 31 luglio scorso a Napoli e lo spegnimento del ruogo costò l'impiego di decine di persone e mezzi. In quell'occasione due le persone denunciate per concorso in incendio boschivo. Nove le batterie di fuochi d'artificio che hanno provocato le fiamme che hanno distrutto i 50 ettari di verde all'interno del cratere degli astroni, area sotto tutela del WWF. Per vedere i danni da vicino sopra il luogo dell'ottava commissione permanente della regione Campania, agricoltura, caccia, pesca, risorse comunitarie statali per lo sviluppo presso la riserva naturale. Le fiamme hanno causato gravi danni e distrutto diversi ettari di alberi verde e macchia mediterranea. L'ottava commissione presieduta dal consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli ha visitato i luoghi insieme al direttore della riserva naturale Fabrizio Canonico. Stamattina abbiamo effettuato un sopralluogo con la commissione agricoltura perché volevamo dare innanzitutto solidarietà e sostegno al WWF e ai volontari e agli operatori dell'Oasi. Seconda cosa perché come regione stiamo cercando di dare il massimo contributo per rinverdire di nuovo tutta la parte devastata e tre perché chiediamo pene severissime. Gli autori di questo atto criminale sono un parcheggiatore abusivo di 33 anni residente a pianura pluripregiudicato e un ristoratore che gli ha detto di sparare questi fuochi nove batterie per festeggiare 18 anni di una persona, di un ragazzino, di ragazzino. Ecco, vi rendete conto? Un esempio pessimo, una devastazione ambientale e un atto contro il buonsenso e la difesa del nostro territorio. Vanno puniti e devono ripagare tutto di tasca loro.